Del progetto Moldaunia se ne ripallerà dopo il 4 dicembre, dopo l'esito del referendum sulle riforme costituzionali. Per il momento c'è solo una delibera del Consiglio Provinciale che condivide l'idea di accorpare la provincia di Foggia al Molise. Gennaro Amodeo, il reatore del progetto, ritiene la delibera di ieri un mezzo passo in avanti in attesa della definizione del quadro normativo generale. Confortato dal parere favorevole alla richiesta referendaria, l'ingegnere si sta già muovendo per bussare ai piani alti. Amodeo intende tagliare il traguardo del referendum sulla Moldaunia e verificare la volontà popolare sull'accorpamento Capitanata Molise. Ieri pomeriggio sarebbe dovuta arrivare anche la risposta dei sindaci, ma per la terza volta non è stato raggiunto il numero legale. Molti comuni hanno aderito al progetto Moldaunia, ma continuano a disertare la seduta in provincia. Ieri c'erano solo i sindaci di Ascoli, Chieuti, Lucera, Rignano, San Severo, Serra Capriola e Torre Maggiore. Il numero dei presenti non ha legittimato l'Assemblea. Amodeo torna a casa solo con la delibera del Consiglio Provinciale che condivide la richiesta referendaria. La strada della Moldaunia è ancora lunga e piena di ostacoli. La strada della Moldaunia è ancora lunga.